M.G. con il numero 23, Simone Rebellinne. Perfetto avanzata, grazie. Allora intanto vi diciamo che ci sono tre tre quadri di volanti interventi. Al trentesimo giro e al quarantesimo giro. I premi sono offerti dall'organizzatore Gino Babini. Con il numero 31, Di Vasco. Allora intanto gli uomini per questi anni che vengono se il grano treno e il treno. Ombri e figli da vincere del gruppo. Il titolo parlamentare Giacomo Santini. Ricordate Giacomo Santini per tanti anni, il giornalista da Rai che ci raccontava tutte le tante regioni d'Italia e regioni in Francia. È stato eletto rotto a mente. Tra fronte l'anno di Lombardi e l'anno di Lombardi. Un guido davanti a Taffi, Carabello e Simone Rebellinne. Chiudi l'ultima posizione. Un guido davanti a Taffi. Guida in maglia piccolore. Si sta chiamando Acco. Massimo Pagetano. Il 27, il Campone Svizzera Fottini e il 38, Fidante. Questi sono uomini a comando quando mancano 22 milioni di manifestazione a Nassi Porto. Un grazie da... Mentre Flavio Mantella, Maglia Caglia, Francia e Fidante. Ragazzi, il campionato fonico va bene a casa. Eh, ci siamo fino a mezzogiorno. Vabbè, anche lui è stato. No, no, non può. Ragazzi. Il trofeo offerto dallo stesso dottor Marras, il sindaco di Monserrato. Il campionato fonico va bene a casa. Ma intanto voglio dire grazie a questo pubblico che è venuto a minare questi grossi campioni del pedale. Non ho aspettato tanta gente, perché è un successo, un successo che mi dirà di proseguire su questa strada. Il mondo è lui, l'Io Sinabile, Giro Portali. Grazie a tutti voi e arrivederci a quest'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.